Se andiamo a racchiudere le occasioni da rete sicuramente sì, però è ovvio che poi è stata una partita difficile, una partita dove sapevamo che loro avevano delle importanti individualità e anche un collettivo fatto in un certo modo. E proprio per questo c'è l'amaro in bocca per aver sciupato tantissime occasioni e poi aver concesso il gol solamente sul primo tiro, sul primo cross praticamente. Quindi purtroppo c'è questo rammarico, però poi guardando il bicchiere mezzo pieno c'è da fare grandi complimenti a questi ragazzi che comunque hanno fatto una grande prova, fatta di un grande collettivo perché si è visto come i ragazzi in tutti quanti sembravano essere legati da una corda che si muovevano all'unisono, ognuno per l'altro. Credo che in ogni partita che abbiamo fatto finora siamo sempre usciti alla fine facendo bene. Infatti poi se andiamo a ripercorrere il nostro cammino in tutte le gare, in casa e fuori casa, le grandi occasioni e tante occasioni le abbiamo avuto dall'ottantesimo in su. E questo c'è da dare atto ovviamente al lavoro dello staff, ma senza la loro disponibilità e dei ragazzi tutto questo ovviamente non poteva accadere. Unischia in forma, ben messa in campo, è mancato solo il gol del raddoppio, forse un po' più di attenzione in attacco, questa è una cosa che si è verificata nel tempo, non si è riusciti a finalizzare. Al contrario il Napoli United, due occasioni, è riuscito a fare il gol. Beh, parlavamo con i ragazzi in settimana che questa partita racchiudeva tutta la stagione, perché seppur avendo fatto un cammino grande, un grande cammino, i ragazzi hanno dato tutto, abbiamo fatto un cammino di tutto l'anno, veramente un percorso di crescita importantissimo. Però poi il calcio è così e si andavano a chiudere tutto in una partita come quella di oggi e forse oggi è stata tutto lo specchio, la partita stessa è stata lo specchio di tutta la stagione. Ci portiamo dietro questo fatto di arrivare lì sotto porta tantissime volte e magari non chiuderla prima. Forse la più eclatante è quella di Mario Soghiuzzo sotto portiere. Almeno tre calciodangoli dove Pippo poteva impartarla meglio. Al primo tempo Castagna si è allungata la palla con l'uno contro uno col portiere. Fortuna sulla traversa di Trofa. Trofa? Ero dimenticato. Quindi purtroppo è così, ma dobbiamo ovviamente far necessità virtù e cercare di adattare quello che poi viene dalla gara e farlo diventare nostro, farlo diventare un punto di forza. Purtroppo, ripeto, su una partita di oggi dove ti giocavi tanto ti resta l'amaro per averla pareggiato in questo modo, però fa parte del calcio. Però nonostante questo c'è ancora una partita da giocare e cercheremo ovviamente di andarla a vincere e cercare ovviamente di incastrare tutto quello che poi è il nostro destino. Però c'è anche da dire questo, come è stato detto durante tutto l'anno, probabilmente su questi ragazzi non era stato mai speso un euro. L'obiettivo già oggi è stato raggiunto dei playoff, poi è ovvio che vuoi giocarlo in una posizione migliore di classifica per poter raggiungere e cercare di raggiungere quel sogno. Però già questo c'è da fare dei complimenti ai ragazzi. Grazie.